E' con piacere ed entusiasmo che vi presentiamo il format del Ristorante Etico. Già 2500 anni fa l'antico e il famoso medico Ippocrate riconosceva l'enorme importanza che il cibo ha sulla salute e la felicità degli esseri umani. A distanza di migliaia di anni ancora il tema della salute e dell'attenzione alla nutrizione si ripropone più attuale che mai. Avvertiamo con forza la responsabilità di ogni ristoratore e di ogni ristorante di rispettare quelle che sono le regole di funzionamento che governano ogni essere umano. E' per questo che in questo format del Ristorante Etico abbiamo dato notevole attenzione non solo a quello che si mangia e quindi con una attenta ricerca di materie prime eccellenti e di ricette che rispettano le proprietà organolettiche dei prodotti ma oltre a questo anche a come lo si mangia, quando lo si mangia e quanto ne si mangia perché sono tutti questi aspetti che creano un'esperienza di nutrizione vitale e utile per la nostra felicità, la nostra salute e la nostra realizzazione. Pensiamo che tutti i sensi debbano essere coinvolti quindi oltre al gusto sicuramente l'olfatto, la vista, il tatto e l'udito in modo che l'esperienza ristorativa sia significativa e si riescono ad acquistare e a rinforzare delle abitudini sane non solo durante l'esperienza al ristorante ma anche nella vita di tutti i giorni perché la salute, la felicità e la realizzazione sono il risultato di abitudini sane che vengono rispettate ogni giorno. Ed è questo che il Ristorante Etico si propone di fare attraverso la sua esperienza trasmettere l'attenzione e l'amore che abbiamo verso noi stessi verso tutti gli esseri umani e verso tutti gli ospiti che scelgono di darci fiducia e attenzione. Grazie mille e buona esperienza.